E' stata rinviata al prossimo 7 luglio la nuova udienza del processo Open Arms, che vede imputato il vice premier Matteo Salvini. Ieri nell'aula bunker del Lucerdone di Palermo sono stati sentiti come testimoni Oscar Camps, il fondatore dell'ONG spagnola, Riccardo Barriuso Leoz, primo ufficiale della nave all'epoca dei fatti, e Inas Urosolo Martinez de Lagos, medico a bordo della missione. Resterebbero da ascoltare ancora un'ottantina di testimoni, compresi alcuni migranti e soccorritori. Al termine dell'udienza la procura ha chiesto l'acquisizione di una mail che Angela Merkel avrebbe inviata a Camps, una risposta alle lettere che il fondatore dell'ONG spagnola ha mandato nell'agosto del 2019 per sollecitare aiuto per lo sbarco quando si trovava in Acqua Italiana davanti all'isola di Lampedusa con 147 persone a bordo. Il commento di Giulia Buongiorno, legale di Salvini. Certamente credo che abbiamo fatto un passo avanti verso la possibilità di dimostrare anche in tempi rapidi quella che è stata la condotta dell'Italia nei confronti di Open Arms, perché avete sentito la deposizione di Oscar Camps che avrebbe dovuto dire di essere stato abbandonato con la sua nave. Ebbene, quando Oscar Camps ha ammesso davanti a tutti che effettivamente riceveva da parte della Guardia Costiera continue richieste di disponibilità, continue sollecitazioni a farli sbarcare, era sufficiente attestare condizioni mediche? Credo che con quella dichiarazione una parte del processo è finita, perché si è sempre detto che l'Open Arms era assolutamente abbandonata. Oggi è stato dimostrato che l'Open Arms era al centro dell'attenzione da parte di tutte le autorità che ha ricevuto più volte delle mail in cui si diceva se attestate le vostre condizioni di salute scendete subito. Delle telefonate in cui i dottori dicevano siamo pronti a darvi la massima disponibilità, aiuto, soccorso, potete scendere basta che attestate le vostre condizioni. Forse l'udienza che in assoluto ha fatto emergere in maniera nitida più delle altre quanto in realtà l'Open Arms sia stata accudita e quasi direi coccolata.